Si chiama Daniel Kubelbock, è un talent star di 33 anni d'età, emerso da uno dei talent show probabilmente più famosi proprio della Germania 16 anni fa di tempo. E l'uomo, o meglio il ragazzo, sarebbe scomparso, si sarebbero persi le tracce di lui nell'oceano atlantico dopo essersi lanciato da una nave da crociera che si chiama Laida nella giornata di ieri, però nel primo mattino quindi all'alba. Di ciò ci informa a Bild, Kubelbock è diventato famoso grazie proprio al talent chiamato la Germania Cercare una star, è stato ricercato un po' ovunque a bordo della nave ma purtroppo senza riuscire ad essere ritrovato. La preoccupazione ovviamente in Germania per l'uomo in questione è molto alta, l'alletta è elevata, è stato diramata una informazione tecnica per far sapere e per auspicare di ritrovare il giovane Daniel Kubelbock che ripeto è scomparso da oramai qualche giorno di tempo, speriamo che Daniel venga ritrovato, anche perché nel paese è un ragazzo che non passa inosservato, anche perché ripeto che ha partecipato a talent show della tv, speriamo ripeto che venga ritrovato. Grazie, un caro saluto, iscrivetevi se vi va, commentate, al prossimo video da Naratore Italiano.